Il lavoro qui a Tianjin da un anno è una compagnia cinese, è un lavoro molto interessante, mi occupo di interior design per privati e per showroom e diciamo che il lavoro qui in Cina è un lavoro molto interessante perché c'è la possibilità di far capire ai cinesi qual è la nostra capacità all'interno dell'architettura e nel campo del design, credo che ci sia possibilità di sviluppo nel campo del design e dell'architettura proprio perché qui in Cina c'è tanta possibilità di lavoro, cosa che in Italia abbiamo un po' meno nel mio campo soprattutto, quindi magari sarebbe fare un invito anche a molti degli architetti e designer che sono in Italia a trovare questa esperienza in Cina, magari all'inizio potrebbe spaventare un pochino perché la Cina è un paese totalmente diverso dall'Italia, molto lontano, ci sono culture diverse, cibo diverso, ma alla fine i cinesi sono delle persone esquisite quindi sono molto gentili, ospitali e per questo io mi trovo abbastanza bene.